Un'interrogazione sulla pineta d'Annunziana avanzata dal Movimento 5 Stelle alla luce della segnalazione di alcuni cittadini di Pescara. Rivolgendosi al presidente del Consiglio cittadino, Antonio Blasioli, venivano elencate più situazioni di degrado e malcuranza della celebre area verde, fiore all'occhiello della città. A rispondere punto per punto ai vari interrogativi, chiedono di conoscere se corrisponde al vero che, nel dettaglio bagni chimici chiusi al pubblico, il numero di alberi abbattuti, la presenza di fenomeni illeciti nel sottobosco ovest e l'assessore al verde pubblico Paola Marcheggiani. Secondo i cittadini, tale risposte non corrisponderebbero al vero. Va sottolineato che in campagna elettorale il verde e l'ambiente erano una delle priorità del sindaco D'Alessandrini e della sua giunta. In realtà invece abbiamo parlato di riserva d'Annunziana e si è rioperta la riserva solo dopo la nostra interrogazione nello scorso Consiglio. La risposta dell'assessore è arrivata ieri mattina, ma è una risposta che non ci convince. Infatti, secondo noi, ci sono diverse cose che vanno verificate. Bisogna verificarne all'esattezza perché ci sono delle dichiarazioni che non sono forse proprio corrispondenti al vero. Messo in chiaro che l'amministrazione comunale abbia preso atto delle denunce effettuate dalla cittadinanza, ora, alla luce delle nuove segnalazioni ricevute, il Movimento 5 Stelle si impegna a controllare di propria iniziativa quanto sostenuto dall'assessore Marcheggiani da un lato e dalla cittadinanza dall'altra. La raddetta dei cittadini a cui noi abbiamo riferito, qual è stata la risposta dell'assessore, appunto loro stessi fanno dichiarazioni che non corrispondono a quello che l'assessore ci ha detto, proprio in merito ad esempio ai bagni chimici e alla pulizia del parco. Andremo a verificare.